Sì, è stato il primo punto in trasferta, siamo felici di questo, ma siamo contenti per la prestazione che abbiamo fatto perché abbiamo messo in difficoltà l'Inter e abbiamo neutralizzato i loro attaccanti. Adesso dobbiamo pensare alla partita di domenica che sarà fondamentale e quindi dobbiamo prepararci bene. Dal punto di vista personale non sei stato impegnato tantissimo, ma quando sei stato chiamato in causa sei stato assolutamente decisivo. Secondo te, considerata l'Inter di quest'oggi, si poteva anche fare qualcosa in più? Noi abbiamo fatto una buona prestazione, ripeto, a parte a livello personale, va bene. Per la squadra sono contento perché abbiamo avuto una reazione dopo magari la partita non brillantissima che abbiamo fatto con la Fiorentina. Quindi c'è stata una reazione, abbiamo dimostrato chi ci siamo e chi ci crediamo fino alla fine. Per il proseguo della stagione che valore ha questo punto? Sicuramente un punto importante perché venire in un campo così difficile e fare risultato sicuramente significa che il gruppo c'è e che ci siamo e che ci crediamo fino alla fine. E ti dici qual è il clima all'interno dello spogliatoio e soprattutto cosa vi ha detto Maran alla fine dell'angara? No, clima tranquillo, sappiamo che siamo in ultimi classifica, però insomma cerchiamo di essere positivi e pensare sempre partita dopo partita per raggiungere la salvezza. Domenica e di Borno è quello che sicuramente a questo punto diventa uno scontro decisivo? Sì, è uno scontro decisivo, lo sappiamo e dobbiamo giocare col cuore, sicuramente il nostro pubblico ci aiuterà e quindi dobbiamo dare il massimo. Tu che guardi la partita naturalmente è la porta dove la visione probabilmente del campo è più completa, questo 3-5-2 il tuo giudizio garantisce che copertura è un modulo attraverso il quale il Catania riesce ad esprimersi meglio rispetto al 4-3-3 o insomma dipende dalle partite che si vanno ad affrontare? Dipende dalle partite che si vanno ad affrontare, ma poi il modulo, cioè la DC del mister, noi dobbiamo andare in campo e ascoltare quello che ci dice e poi dare il massimo, poi che si giochi in un modo o nell'altro dobbiamo essere sempre a sua disposizione.